Allora, qui abbiamo cinque simboli ESP Il quadrato, la stella, la croce, le onde e il cerchio Allora, fai una cosa, tu dovrai scegliere una di queste cinque E inserirne una dentro questa busta Ok Guarda, è una busta completamente nera Sì, sì Non trasparente In modo che io non possa sapere quale è la carta che hai scelto Mi volterò anche di spazio Vai! Ok Oh, hai fatto molto bene, mi hai tolto le altre carte Così io non posso sapere qual è la carta che hai scelto Allora, onde, quadrato, cerchio, croce e stella Fai una cosa adesso, mentalmente cerca di trasmettermi qual è la carta che hai scelto Ok Secondo me, sì Tu hai scelto esattamente la stella Sì Come ho fatto?